Il commissariamento della Cassa di Risparmio di Ferrara da parte di Banca Italia ha prodotto preoccupazione e sfiducia e rischia di interrompere quel rapporto storico tra banca e territorio che non è mai venuto meno. Di fatto una situazione del genere si risolve in un danno per gli azionisti ed è per questo che l'associazione presieduta da Daniele Maluccelli ha deciso di sostenere il ricorso al Capo dello Stato messo a punto dal Vice Presidente Andrea Malfaccini con cui si richiede di revocare il commissariamento di Carife voluto da Banca Italia. La nostra intenzione è quella di tutelare, cercare di tutelare gli azionisti e i soci della banca che da questa operazione di commissariamento hanno sicuramente trovato motivo di quantomeno essere spaesati e se non un pochettino distaccati da quella che è l'operatività della banca che ultimamente abbiamo registrato sicuramente. Il ricorso, datato 26 ottobre, sarà istruito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e toccherà al Consiglio di Stato prendere una decisione che potrebbe arrivare a essere però ottimisti nell'arco di sei mesi. Ed ecco perché si è scelta la strada di rivolgersi direttamente al Capo dello Stato. Ci è sembrata una scelta forse la più diretta per non imbarcarci, l'alternativa era di andare al Tribunale Amministrativo che poi aveva la possibilità di un appello al Consiglio di Stato, eccetera. Se il ricorso straordinario già prevede che la decisione venga presa dal Consiglio di Stato è evidente che abbiamo ritenuto che sia più conveniente fare un salto e avvicinarsi il più possibile all'esito finale.